Ciao ragazzi bentornati sul canale bentornati su world of warships oggi andiamo a vedere finalmente l'akizuki il cacciador periniere di livello 8 giapponese abbiamo visto ieri il cacciador periniere shiratsuyu oggi come detto andiamo a vedere la versione finalmente potenziata di questo ramo giapponese che propone come arma principale i cannoni da 100 partiamo dall'inizio abbiamo una resistenza di 23.200 punti artiglieria cannoni come detto da 100 tempo di ricarica 3 secondi gittata massima 12.5 tramite il sistema di controllo del tiro 2 abbiamo poi danno he 1200 danno ap 1700 probabilità incendio pari al 6% che potrà essere aumentata con la skill del comandante e le bandiere siluri abbiamo un solo una sola torretta con 4 tubi a testa tempo di ricarica 101 danno massimo 17.233 portata 10 km raggio di rilevabilità 1.6 con la difesa contraria siamo messi abbastanza bene 46 manovrabilità 34.6 con la bandiera seramaic una nave molto lenta verremo spottati a 6.1 km e da qualsiasi nave nemica e a 2.9 da qualsiasi aereo nemico ragazzi andiamo in partita per conoscere meglio questo fantastico cacciador periniere via possiamo ammirare la bellezza del cacciador periniere akizuki guardate quanto è bello anche la mimetica devo dire che è davvero spettacolare abbiamo tutte le bandiere bandiere fondamentalmente economiche e anche per aumentare dell'1% la probabilità di incendio infatti durante la presentazione del cacciador periniere avevo detto in maniera errata che le bandiere insomma ancora dovevo metterle in realtà il 6% che avete visto prima era con le bandiere mi stava sembrando strano che il 6% fosse la percentuale base comunque sia andiamo a vedere immediatamente il matchmaking ho messo anche la visuale che vedevo durante la partita siamo contro navi anche di livello 9 4 cacciador penieri contro 4 siamo nella mappa l'atlantico modalità supremazia 3 punti di capo decidiamo di andare verso il settore di charlie per cercare di dare il nostro contributo per l'appunto in questo settore abbiamo la musashi abbiamo la missura abbiamo la sharnost la sharnost ragazzi è da un po' che non la porto sul canale quasi quasi un piccolo gameplay ci starebbe la corazzata tedesca premium di livello 7 davvero molto divertente vado a mettere la diciamo come dire i siluri li vado a chiudere nel senso quando li lancio saranno più uniti tra di loro mi piace averli così massima velocità sul set massima velocità insomma si fa per dire perché come detto siamo abbastanza lenti il boost ci da qualche nodo in più di velocità però sinceramente è una nave lenta è molto lenta quindi fate i conti anche con questo aspetto abbiamo dietro di noi l'incrociatore di livello 9 sovietico che sicuramente andrà ad utilizzare il suo radar per cercare di trovare il cacciador peniere che sicuramente ecco appunto sarà sul settore di charlie andiamo a dare un po' di fumo per dare copertura anche all'incrociatore andiamo a sparare tutto quello che abbiamo su quella akazuki da non confondere con l'akizuki perché io utilizzo l'akizuki e lui ha la akazuki due navi completamente diverse via con i siluri magari non solo andiamo a beccare sul lato sinistro io qui sinceramente ci ho provato andiamo continuiamo ad avanzare perché alla fine io so che il nostro incrociatore a breve andrà ad utilizzare il suo radar nuovi siluri ecco il radar come vedete sta comparendo vai akazuki spottata molto bene spariamo tutto quello che abbiamo con le h e il tempo di ricarica ragazzi quando sparavo io non ci volevo credere 4 torrette con 2 cannoni 8 cannoni che sparano ogni 3 secondi secondo me sono troppi e cioè ve lo dico non sono abituato a tale potenza di fuoco 1790 198 qualche colpo critico cerchiamo di rimanere sempre all'interno del settore di charlie anche se abbiamo l'incrociatore che blocca molto coraggiosamente qui ha fatto un'avanzata che sinceramente non mi sarei aspettato perché poteva esserci non so una corazzata di livello 9 da quella parte invece lui va così senza problemi decidiamo di entrare nuovamente sul dentro il settore di charlie perché molto ecco appunto stavo dicendo quasi sicuramente l'akazuki verrà spottata cerchiamo di sparare nuovamente con le nostre mitiche h e 1188 quel caccia torpediniere non può andare da nessuna parte veramente qui non ha possibilità di salvarsi in nessun modo cerchiamo di portare a casa la prima kill sarebbe una cosa molto molto buona la prima partita con la prima kill vediamo se arriva si abbiamo portato a casa anche questa cosa qui primo sangue i nemici nel frattempo stanno catturando a quanto pare il settore di alpha qui facciamo i complimenti all'incrociatore perché è merito suo se siamo riusciti a colpire il caccia torpediniere nemico una cosa molto importante nel frattempo che il gameplay va avanti è che nel gameplay di ieri con la shira studio avevamo visto la ricarica veloce dei siluri se vi ricordate ebbene con questo caccia torpediniere possiamo portare sia il fumo che la ricarica dei siluri quindi andiamo ad avere tante nuove possibilità di attacco e di giocate che possiamo fare una cosa da tenere conto è che nel frattempo qui andiamo con la york no niente quindi dobbiamo tenere conto di questa cosa andiamo contro la york ancora una volta con tutti i cannoni nel frattempo abbiamo lanciato dei siluri i siluri sono pochi però ripeto ragazzi qui ci dobbiamo abituare se intendete sbloccare questo ramo e venite da quello della shimakaze che qui i danni veri e propri si fanno con le torrette le prime due kill ce le portiamo a casa noi due kill per la squadra due kill per devi molto bene 15.000 danni nulla di particolare i danni fatti però se considerate che abbiamo quasi totalmente alzerato il caccia torpediniere direi che è una cosa molto molto positiva cerchiamo di lanciare nuovamente i siluri e qui rivedendo il replay sinceramente dovevo avanzare o indietreggiare dipende dalla prua dove si trova in questa circostanza dovevo indietreggiare e lanciare i siluri perché l'annagato sta dando potenza alla sua nave continuiamo a sparare via 692 sono tutti i punti che portiamo a casa 487 cerchiamo l'incendio ovviamente nel frattempo la situazione su alfa e su bravo sembrerebbe peggiorata come non detto un'altra kill per la squadra la corazzata di livello 7 tedesca va a timbrare l'incrociatore americano 442 238 il punteggio ci sorride da questo punto di vista vediamo un pochino 37.000 danni e qui entrano le hit si spera quelle importanti se solo la mia mira fosse decente non dico buona almeno decente un piccolo incendio potrebbe anche arrivare per favore andiamo a perdere purtroppo la corazzata musashi la corazzata di livello 9 giapponese ok l'incendio è scattato finalmente su quella nagato è il momento di dare potenza alla nostra akizuki potenza insomma per quanto possa essere veloce l'atlanta va a timbrare il cacciador peliniere giapponese abbiamo un vantaggio ragazzi davvero molto molto importante sia in termini di navi che in termini di punteggio 445 a 267 adesso è il momento di pensare a cercare di catturare il settore di bravo ancora una volta cerchiamo di avere una presenza costante con i cannoni alla fine non ci sta puntando nessuno come potete ben vedere abbiamo solo la scritta individuato individuato e non il numero diciamo dei cannoni che ci stanno puntando quindi vuol dire che abbiamo il via libra la nagato la nagato avversaria in in A9 è ancora viva purtroppo purtroppo è ancora viva e ha pochi punti vita però sinceramente non ho tempo per pensare a quella corazzata 489 a 238 la partita ragazzi sembra in cassaforte loro propongono solo 6 navi noi abbiamo subito solo 2 perdite ovvero 2 corazzate la york non se la passa benissimo però insomma vediamo un pochino come procede la partita 400 punti dai sta recuperando che sfiga potevamo fare quella kill però eh abbiamo fatto per il momento 51.000 danni 5 incendi sinceramente sul settore di charlie potevamo fare qualcosina di più sicuramente una hit con il siluro insomma soprattutto sull'anagato cosa che invece non è arrivata però dovete anche capire ragazzi che questa qui è la prima partita in assoluto che gioco con la mitica Akizuki e già si vede il cambiamento tra la Shirazuyu e l'Akizuki è un cambiamento diciamo totale è una nave che per forza di cose devo ho dovuto sbloccare dei pezzi dei moduli più che altro con l'esperienza tecnica perché altrimenti diciamo che può risultare difficile affrontare un'Akizuki avversaria o comunque navi di livello 10 si inizia ad essere a un livello importante e quindi sono stato costretto come detto ad utilizzare l'esperienza libera comunque sia è una cosa da nulla andiamo contro il cacciador pediniere vediamo qualche colpo se riusciamo a metterlo a segno qui la corazzata francese sta avanzando un po' troppo se devo essere sincero andiamo a perdere la corazzata e ragazzi attenzione perché loro potrebbero recuperare una chi le tira l'altra noi nel frattempo cerchiamo di aggiustare la mira vai cadono i colpi sul cacciador pediniere che dici no perché lui va con il fumo giustamente va con il fumo e si va a coprire attenzione la tranta ok ecco lo sapevo l'ha messo qui veramente avevo paura per la tranta colpo devastante della missuri tanto se non l'avesse fatta la missuri sicuramente ci avrebbe pensata pensato un'altra nave cerchiamo di cappare bravo ragazzi i nemici stanno recuperando vi ho detto dobbiamo stare sempre attenti la partita non è finita finché non è finita capitano ovvio presente nel frattempo che la partita va avanti qui proviamo un po' di siduri su quelle corazzate su quella corazzata e su quello incrociatore vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti di lasciare un bel mi piace al video se possibile una bella condivisione per supportare devil il canale sta crescendo sempre di più ormai puntiamo ai 6.000 iscritti ragazzi i 6.000 iscritti sono davvero tantissimi considerando che come dico sempre non ho mai fatto collaborazioni non ho mai chiesto aiuto da nessuno e quindi è tutta farina del mio sacco e questa cosa mi rende anche molto orgoglioso da questo punto di vista un siluro vediamo uno solo dammene un altro per favore ok un altro due perfetto ha riparato tutto lui ok 396 396 siamo andati con il fumo qui l'importanza del fumo e della nostra cadenza di fuoco si fa sentire particolarmente siamo saliti a 85.000 danni vediamo se arriva la kill lui ha 31.000 punti da dare ancora radar ecco lo sapevo purtroppo il radar qui ci va a dare un po' di fastidio però decido di rimanere fermo perché alla fine non mi sta puntando nessuno quindi perché mi devo muovere se nessuno mi sta puntando andiamo a perdere il cacciador peniere giapponese purtroppo no poteva arrivare una kill molto importante su quella missuri cosa che in realtà non arriva in questa circostanza continuiamo con le ha sinceramente preferisco fare creare un incendio a bordo vediamo se arriva perfetto è arrivato 396 non lo vediamo più perché non c'è nessuno che lo spotta siamo 6 contro 4 ragazzi 6 contro 4 considerando che i nemici veramente erano alle corde hanno fatto il miracolo di recuperare non so come probabile per merito loro e per demerito nostro sicuramente le due cose si sono combinate a vicenda cerchiamo la kill sulla lasca 7600 vai un piccolo incendio dammi l'incendio ho capito che è solo il 6% andiamo a perdere un'altra nave ragazzi qua rischiamo veramente di perdere la partita sarebbe una catastrofe totale la lion è stata distrutta dal cacciador peniere giapponese ok incendio è quello che aspettavo finalmente vai 97000 danni arriviamo almeno 100000 per favore no la york la york ci prende la kill sulla lasca non ci voglio credere non ci voglio credere cerchiamo di mantenere la calma siamo 4 contro 3 il problema è che questa nave diciamo non è così facile da gestire nel senso che ci troviamo in uno spazio così piccolo e dobbiamo fare una virata per andare dentro bravo abbiamo dei problemi tecnici che stiamo provando a risolvere il più velocemente possibile abbiamo in squadra la york ragazzi vi ricordate quella york famosa che era rimasta 2000 punti vita qualche minuto fa ebbene è ancora viva e ha fatto la kill se ho visto bene sulla lasca propone solo 1000 punti vita la nelson è una corazzata come dico sempre terribile da affrontare è pericolosissima la corazzata inglese di livello 7 tra l'altro costa se ricordo bene qualcosa come 375.000 di esperienza libera potrei farci anche un pensierino se devo essere sincero vedremo in futuro cerchiamo di cappare 4 contro 3 loro hanno ancora il cacciatore periniere da qualche parte sulla destra tipo sul settore di E4 non siamo convinti al 100% però è molto probabile che sia in quella zona iniziamo a sparare tutto quello che abbiamo vai continuiamo vai così non ti perdere non ti fermare neanche un secondo che qui serve l'incendio assolutamente non siamo puntati da nessuno purtroppo la nelson giustamente sicuramente stava puntando la nostra corazzata arriva anche il cacciador pediniere e qui sinceramente un po' di sfortuna perché non scatta l'incendio andiamo sull'udaloi stiamo davvero al limite con la gittata quindi è anche inutile provarci perché l'udaloi diciamo sta andando lontano si sta allontanando dalla nostra posizione appena arriva a tiro cercheremo di nuovo di colpirlo vediamo 330 devi dai spara l'udaloi veloce veloce in realtà stavo mirando al cacciador pediniere arrivano siduri ancora una volta 259 dobbiamo semplicemente colpirlo ci serve solo una hit perfetto è arrivata tra l'altro i siduri del cacciador pediniere avversario non possono distruggermi quindi io ero totalmente al sicuro da quell'attacco e adesso dobbiamo in qualche modo cercare di distruggere la nelson decido di utilizzare l'ultima ricarica rapida per quanto riguarda i siduri per cercare di metterlo in difficoltà vediamo un pochino qua scrive in chat il giocatore Aki speriamo tutti in te gli faccio il sorriso come per dire ci penso io tranquilli vediamo cosa riusciamo a fare siamo a 105 mila danni incendio che ancora non scatta e qui molta sfortuna purtroppo il nostro incrociatore nel frattempo sta subendo danni dal cacciator periniere nemico abbiamo sempre la york dietro di noi con pochi punti vita york che sta rischiando particolarmente perché ha solo mille punti e qua scrivo in chat non morire per favore perché è molto importante giocare sui punti 611 a 586 4 minuti vediamo la mia idea è la seguente ecco l'incrociatore è stato distrutto fantastico andiamo con il fumo metti il fumo devi devi mettere il fumo perché non metti il fumo non mette il fumo si è scordato del fumo no in realtà stavo sperando nella cattiva mira della Nelson che giustamente mi va a devastare con 7000 punti qua non so perché non l'ho messo perché non l'hai messo il primo il fumo scusa vabbè non fa nulla 1188 vediamo se la Nelson viene ancora spottata dall'incrociatore io qua speravo che l'incrociatore potesse spottare la corazzata cosa che non avviene nella maniera più assoluta nessuno può spottare la corazzata scrivo in chat non sparare vado ad ucciderlo e qui secondo me non diciamo la giocata non tanto mi è piaciuta rivedendola perché potevo aspettarlo avevo ancora un minuto di fumo lui stava bruciando e invece decido di caricarlo a testa bassa sinceramente considerando che la mia nave è molto lenta è un'azione che ci può stare però insomma non così tanto qui aspettavo il danno suo danno che è arrivato molto fortunato qui ragazzi si tratta solo di fortuna andiamo a lanciare i siluri veniamo distrutti dalle armi secondarie della nelson però portiamo a casa un grosso calibro con gli ultimi siluri che andiamo a mettere a segno per l'appunto sulla corazzata la strategia poteva essere diversa ho fatto bene ho fatto male voi cosa avreste fatto fatemelo sapere magari nei commenti rimane una york con 1030 punti contro il cacciador peniere nemico che potrebbe fare a questo punto il kraken kraken che a sua volta poteva essere fatto da noi se solo avessi fatto la kill sulla missuri e sulla lasca peccato un'occasione persa però sono fiducioso che il kraken potrà arrivare in futuro adesso in chat si parlerà del più e del meno e si inizieranno a fare i conti per quanto riguarda i punti che ci servono per poter portare a casa la partita ragazzi velocizziamo un pochino il video e vediamo come va a finire mancano solo 7 secondi alla fine della partita abbiamo un vantaggio di pochi punti ragazzi a questo punto risultati posto scontro ragazzi video terminato grazie per l'attenzione noi come sempre ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao